Messaggio di Nostro Signore Gesù Cristo. Alla Sua amata figlia Luz de Maria. Festa del Sacro Cuore di Gesù. Dato in Argentina. 15 giugno 2012. Amatissimi figli. All'interno dei nostri cuori albergano i sentimenti dell'umanità. Le umiliazioni, le ansie e le richieste che alcune anime ci rivolgono. Fino a quando ci rimangono fedeli. I nostri cuori non smettono di cercare anime desiderose e di acclamarmi come loro re e di attribuirmi le qualità che tutte le creature dovrebbero riconoscermi. Mia madre, intermediaria di tutte le grazie, ha più volte menzionato alla gerarchia della mia Chiesa il dovere di consacrare alla Russia il suo cuore immaccolato, ma ancora non è stato portato a termine nel dettaglio ciò che è stato richiesto. Quanti mali potrebbero essere evitati? La mia casa ha donato amore, e che cosa ha ricevuto in cambio, freddezza e debolezza? Se amaste la bontà e la misericordia, che vi riservo, sareste obbedienti sapendo che questo semplice atto farebbe cessare o diminuire le dure conseguenze di tutto ciò che si è abbattuto su di voi. Quante possibilità avrebbe l'uomo di essere salvato grazie al libero arbitrio? Il maligno cospiratore contro l'umanità si avventa come un avvoltoio sopra le anime per distruggerle e allontanarle eternamente dal mio amore. Il male non si ferma, non si riposa mentre voi vi crogiolate nei piaceri. L'umanità è inarrestabile in termini di piacere e disprezzo, e in questo modo il rapporto tra la mia casa e l'uomo peggiora, anche se lo ho esortato a osservare i segni che si manifestano in questo istante e a essere rispettoso delle mie leggi per potersi salvare. Un vento di dolore si avvicina velocemente verso l'uomo lontano dal suo dio e da sua madre. Figli, pregate per l'Inghilterra. La creazione, opera delle mie mani, vede l'oscurità degli atti dell'uomo e cerca di illuminarli, ma ogni volta si sente rifiutata. Umanità, continui a minacciare inesorabilmente la magnificenza di ciò che è stato creato per il tuo bene. Che cosa ti aspetti dal tuo dio, un premio? La mia misericordia è simile alle palle di un mulino a vento, è sufficiente soffiare e comincia a muoversi. La mia giustizia è rapida e sicura. Il mio corpo mistico, maltrattato e ferito a causa dell'ignoranza, è un popolo, che percorre il suo cammino senza conoscermi correttamente e senza diffondere i doni e le virtù di cui l'ho dotato. Figli, pregate, pregate per la Spagna. Questa generazione scarica la propria immondizia nei miei templi, non è il momento di essere vili, è il momento degli eroi, degli uomini e delle donne di buona fede. Pregate per il Brasile, un fatto deplorevole glielo sorprenderà. Mia madre è la stela del mattino, che diffonde la sua luce a tutti, senza distinzione. Amati, vi amo, siete il mio tesoro custodito, vi chiedo di consacrarmi la vostra volontà vi benedico. Il vostro Gesù.